Una società senza madri sarebbe una società disumana, perché le madri sanno testimoniare sempre, anche nei momenti peggiori, la tenerezza, la dedizione, la forza morale. Le madri trasmettono spesso anche il senso più profondo della pratica religiosa. Nelle prime preghiere, nei primi gesti di devozione che un bambino impara, è iscritto il valore della fede nella vita di un essere umano. È il cuore della Catechesi del Papa, la prima del 2015 in Aula Palosesto. Parole incentrate sulle figure di madri, tanto esaltate nel loro ruolo, ma poco ascoltate e aiutate nella vita di tutti i giorni. Spesso, dice Francesco, si approfitta della disponibilità delle madri a sacrificarsi per i figli per risparmiare sulle spese sociali. Si dovrebbe invece, anche nella comunità cristiana, dare più ascolto alle donne, pronto a tutto per i figli, a comprendere la loro lotta quotidiana per essere efficienti al lavoro e attenti in famiglia. Le madri, aggiunge, sono l'antidodo più forte al dilagare dell'individualismo egoistico. Ospitano un bimbo per darlo al mondo, odiano la guerra che uccide i loro figli, sono testimoni della bellezza e vivono, come diceva l'arcivescovo Romero, un martirio, cioè quel dare la vita poco a poco, nel silenzio, nella preghiera e nel compimento onesto. Anche la Chiesa è madre, sottolinea il Papa, che nei saluti finali ricorda la delegazione dei superstiti del campo di concentramento di Auschwitz, liberati 70 anni fa, e i circensi, creatori di bellezza che fa bene all'anima. Grazie. 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 Grazie.